Una partita importante contro una bella squadra, una delle squadre che gioca meglio, una squadra collaudata che ha stravinto il campionato di Serie C l'anno scorso e sta dimostrando anche quest'anno in Serie B di essere un'ottima squadra. Dobbiamo affrontarla come una finale perché ci servono i tre punti per uscire da questo periodo di difficoltà e quindi dovremo affrontarla nei migliori modi con l'atteggiamento giusto fin dall'inizio cercando di vincere la partita. La squadra giustamente era delusa per il risultato dell'altro giorno quindi abbiamo lavorato anche tanto sull'aspetto mentale, su quello che non siamo riusciti a fare in queste partite, abbiamo lavorato e speriamo di avere dei frutti già da domani. Crediamo tutti in questa squadra, sappiamo qual è l'importanza di vestire questa maglia, quindi dispiace a tutti essere in questo momento, in questa parte della classifica, però il lavoro va avanti, si cerca di migliorare sugli errori fatti, si cerca di portare avanti un percorso iniziato a luglio, certo sapevamo ci sarebbero state difficoltà ma non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo stare col petto in fuori a testa alta perché di momenti difficili ce ne saranno altri però solo col lavoro quotidiano e con la forza del gruppo si esce da questi momenti. Paura non dobbiamo averne perché sappiamo che il campionato di Serbio è un campionato duro e difficile però se ci mettiamo già lì a pensare in negativo non ne usciamo, dobbiamo pensare partita o partita come abbiamo sempre detto, non facciamo proclami ma però sappiamo che ogni partita diventa fondamentale ed importante quindi i punti pesano, i punti cominciano a essere tanti e quindi c'è bisogno di fare delle prestazioni degni del nome e della maglia che portiamo. C'era qualcuno Mari che giocherà ancora, qualcuno che Mari ruoterà perché tre partite una settimana sono tante quindi abbiamo giocatori pronti per poter giocare, giocatori che si sono riposati. Quanto riguarda Barreca e Giordano, all'inizio giocava Giordano, adesso sta giocando Barreca però li metto tutti e due sullo stesso livello, dipendentemente da quello che stanno facendo, mi fido di loro e quindi in base all'avversario che affronteremo deciderò poi chi far giocare, però sono soddisfatto di tutti e due. In attacco abbiamo adesso a disposizione tutti gli attaccanti, fino a settimana scorsa non ne abbiamo mai avuti, avevamo solo Lagumina e Borini, gli altri erano fuori per infortunio quindi per ragione di forza ho dovuto far giocare quelli, adesso ho più scelta e quindi avremo anche più soluzioni da adottare. Per quanto riguarda gli errori difensivi, purtroppo al primo errore in questo momento prendiamo gol, dobbiamo cercare di evitarlo, ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto e rivisti e quindi concentrazione deve essere massima, deve essere per 100 minuti, non basta essere sul pezzo per 95, ma devi essere per tutta la partita perché appena molli un attimo la tensione e la concentrazione rischi di prendere gol, quindi è normale che a questi livelli non puoi abbassare mai la guardia. La squadra deve capire che la tifoseria è con loro, non devono avere paura, per noi giocare a Marassi deve essere una spinta in più, deve essere la nostra forza, invece in questo momento magari ne abbiamo risentiti più, però dobbiamo solo che ringraziarli perché fino a questo momento hanno fatto sentire sempre il loro apporto, però per far sì che continuino dobbiamo fare qualche prestazione positiva e inizieremo sicuramente da domani.